Quando si ripassa il filato e la roccatrice, se c'è un nodo qui, rimane incastrato e il filo si rompe. Quando il filo si rompe, noi utilizziamo lo splicer, che è questo martingegno, che serve per saldare il filato. Questo non fa il nodo, questo salda il filato. Ora faccio un esempio, taglio il filo, facciamo finta che ha trovato un nodo, taglio il filo, si mette i due capi nello splicer e il filo viene saldato. Non c'è più il nodo. E si continua. Alcuni nodi passano, se sono nodi piccolini, il filato è fine, passano. Però la maggior parte rimangono incastrati qua e si rompono. Si usa questo, che è lo splicer, per i nodi. Questo salda il filo e non c'è più il nodo. Grazie. 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 Grazie.